trebimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su trebimeteo.com Previsioni del tempo per sabato 20 agosto. Campo anticiclonico persistente, bel tempo ovunque. In Puglia cieli sereni per tutta la giornata. Caldo intenso nelle ore diurne con punte anche di 37-38 gradi sulle aree interne del Foggiano, del Tarantino e dell'Eccese. Bel tempo con cieli sereni anche in Basilicata, eccetto il pomeriggio in montagna che sarà prevalentemente soleggiato ma con poche nubi. In Molise, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna soleggiato con poche nubi al mattino, schiarite prevalenti ma con possibili temporali passeggeri al pomeriggio. Venti moderati settentrionali, mosso il basso adriatico, specie il canale d'Otranto, quasi calmo, poco mosso lo Ionio. sempre aggiornate su trebimeteo.com